Mamma mia, mamma mia cosa stiamo vedendo! A parte la bellezza del quarto di finale, ragazzi Mila-Roma, partita italiana, rivalità, perché comunque quando ti giochi con l'italiana in Europa c'è ancora più atmosfera, bellissimo, partita bellissima, Milan 0, Roma 1 che va in vantaggio con il gol di Mancini di testa, che nel giro di pochi giorni ha sistemato tra Lazio e Milan una decisione totale, il Mancio ha deciso di deciderla totalmente, perché ragazzi nonostante sia un calciatore che a me sta particolarmente antipatico, come a tanti amanti del calcio, stanno ipatico Mancini, penso sia comprensibili, però ragazzi io ammetto che è un calciatore che è cresciuto tantissimo, è cresciuto tantissimo con De Rossi e sta trovando la tranquillità ragazzi di una volta, cioè sta ritrovando tutto, bravi bravi bravi, la Roma oggi fa un giropalla bellissimo, la Roma oggi gioca una partita secondo me intelligente, bene, poi certo è stata fortunata, il Milan ha avuto le occasioni, però non è che stai giocando con la percolettese, stai giocando con il Milan, che è una squadra che ha calciatori del calibro di Loftus Cic, Giroud, Leao, Magnan, ha calciatori forti il Milan, è giusto che subisce occasioni a Milano, ci può stare ed è una Roma che a me è piaciuta molto, perché nel momento dove la partita andava calmata, dove non ti dovevi sbilanciare, l'hai fatto bene, l'hai fatto benissimo, perché è una Roma che ha giocato a pallone, è una Roma che ha scambiato benissimo, Di Bala bravissimo tra le linee, bravissimo a giocare la palla, poi ha preso tante botte ragazzi, Di Bala oggi viene cambiato da De Rossi, perché se no al ritorno non ci arriva, conosciamo Di Bala fisicamente come è messo, tu oggi a una certa lo devi cambiare per forza. Ecco, il ragazzo che sta uscendo va un po' deluso, Lukaku, perché Lukaku secondo me è un calciatore che in queste partite può spostare ancora di più gli equilibri, e lo dico qui, Lukaku al ritorno è decisivo, perché Lukaku se al ritorno il signor Romero Lukaku te la sblocca lui e vai 1-0, tu hai una tranquillità maggiore e un modo di approcciare la partita migliore, ma se la punta non ti aiuta, non salta l'uomo, sta sempre marcato, sempre dietro l'uomo e tutto, ragazzi è come se giochi 1-1, Lukaku al ritorno sa che passa tanto da lui la qualificazione, lo sa benissimo e questo deve essere chiaro sia per lui sia per il resto della squadra, però tutti sanno che passa tanto da Lukaku. Come oggi il Milan che prende due traverse con Svilar che fa le sue parate e tutto, ragazzi oggi il Milan sa che si poteva fare di più, si poteva fare meglio, si poteva essere più lucidi in alcune situazioni, e come passa da Lukaku il passaggio del turno alla prossima, passa anche e soprattutto da Leao, perché Leao ragazzi da lui ci si aspetta una partita di maggiore spessore rispetto a oggi, perché sappiamo bene ragazzi che Leao in una partita come questa deve decidere, perché ragazzi se sei il top player di questa squadra, tu queste partite qui devi provare a deciderle. Poi ci sta la serata stosta dove non entra il pallone, il Milan oggi non meritava del tutto di perdere, il Milan ha avuto le sue occasioni, però ripeto io faccio i complimenti alla Roma, perché comunque oggi va a Milano e approccia la partita nel modo giusto, non si è abbassata, non è stata a difendersi, non è stata a subire, la Roma ha fatto il suo, la Roma ha deciso di giocarlo a viso aperto, a me è piaciuta molto. E questo ragazzi è tanto merito di Daniele De Rossi, secondo me che senza di lui, perché sappiamo che dal suo arrivo è cambiato tutto in casa Roma, sappiamo bene che senza di lui ragazzi oggi la partita non l'avresti approcciata così, e non voglio fare polemiche e niente. Comunque, manca un minuto al termine, ce lo godiamo in live, e mentre ce lo godiamo in live ci tengo a raccontarvi una cosa, perché ragazzi se non mi state vedendo su Instagram è perché sono stato bannato, il mio account è stato sospeso, e vi sto dicendo questa cosa perché comunque ritengo importante che sappiate anche perché non si vede più il mio profilo su Instagram, sono stato sospeso da Instagram, non so se tornerò, cioè se tornerà il mio canale vecchio, cioè il mio profilo vecchio tornerà attivo, non so perché Instagram non mi fa fare ricorso, non mi fa fare nulla Instagram in questo momento, sto aspettando che passino le 48 ore dalla sospensione, sto aspettando, magari aspetterò anche una settimana, io ragazzi sto cercando in tutti i modi di tornare a far, ad attivare il profilo Instagram, sto cercando in un sacco di modi però non mi fanno nemmeno fare ricorso, e quindi ragazzi non riesco a capire, voi mi direte se è stato bannato, se è un imbecile e tutto, ragazzi, il problema per il ban da quello che ho capito è stato il copyright, perché chissà, chi mi segue su Instagram sa che faccio un post al giorno e pubblico un reel al giorno, per cui escono due contenuti al giorno su Instagram stabili, i reel ragazzi può capitare che a volte vengono rimossi per copyright e tutto, e quindi succede che ti possano rimuovere un reel, ma la cosa brutta ragazzi è che a me hanno non solo rimosso il reel, ma anche sospeso l'account, io posso capire che tu mi elimini il video, però ragazzi io faccio un discorso, dopo che io per copyright mi elimini un video, non mi sospendere l'account, cioè io non è che ho incitato Oio sulle storie, ho incitato, che ne so, contenuti gravi, ho messo, cioè non ho messo cose violente, non ho messo mai nulla, non ho fatto mai nulla che possa essere bannabile su Instagram, cioè io ho messo cose, video di calcio che magari possono, ecco, andare a creare problematiche sul copyright, però eliminami il video che magari non ti va bene, ma non mi far smettere di lavorare, perché non mi sembra giusto, perché c'è gente che sui social fa molto di peggio, quindi ecco, ci tenevo a spiegarvi il perché della mia assenza su Instagram, che spero sia temporanea, perché voglio tornare a tutti i costi ad avere quel profilo lì dove stavamo andando bene, i numeri andavano bene, e quindi questo problema qui, comunque potete continuare a seguirmi su Instagram, su YouTube e TikTok, che sono piattaforme in questo momento attive. Instagram, ragazzi, c'è questo problema che sto cercando di risolvere, ma sinceramente non vi so dire come, quando e quanto tempo ci vorrà risolvere, ecco, non so nulla, purtroppo perché Instagram non mi dà questo tipo di informazioni. Intanto, ragazzi, vediamo, è finita? Finisce così, Milan-0, Roma-1. La Roma si aggiudica l'andata dei quarti di finale e si deciderà tutto allo Stadio Olimpico di Roma, giovedì prossimo. Dal Bomberman è tutto, vi chiedo scusa un po' perché sono andato lungo con il discorso, però dovevo dirvelo, dovevo dirvelo ed è andata così. Buonasera a tutti, ci si vede nel weekend con la Serie A. Tagliano!